Oggi noi tutti siamo testimoni non solo di due persone che si uniscono in matrimonio, ma siamo testimoni di due persone che hanno gli stessi valori e la stessa radice. Quando io ero piccolo, Roberto mi teneva in braccio e quando Martina era piccolo, io tenevo in braccio lei. Questa magia che oggi noi vediamo qui e di cui tutti siamo speccatori, testimoni, è una magia che deriva dal fatto che intergenerazioni prima di noi sono tutte originari di un posto, un posto speciale. E voi due oggi siete testimoni che da questo posto speciale possono nascere delle cose che dureranno per tutta la vita. Vi auguro la maggior felicità che voi possiate desiderare e vi auguro di vivere la vostra vita sempre insieme. Bellissimo, esideriamo qui. 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 Grazie.